gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia la ministra dell'agricoltura bellanova dice ora 80 mila persone hanno già fatto la domanda di regolarizzazione e quindi abbiamo 80 mila buoni motivi per dire che andava fatta quella norma non solo per le famiglie ma anche per il sistema agricolo così come per l'edilizia per la logistica perché ci sono pezzi di sfruttamento che sono intollerabili per un paese civile lo dice la teresa bellanova in videoconferenza al forum pa ma io direi che ci sono 80 mila buoni motivi per far cadere questo governo che gli italiani alle elezioni regionali pensino alla bella nova alla regolarizzazione dei clandestini e agli 80 mila buoni motivi per dire che andava fatta grazie e buon proseguimento di giornata mi trovate anche su facebook nella pagina tele italia arrivederci a tutti